Aplaudite i popoli tutti, fortanati e con gioia al Signore in tutta vera, il divente e l'artissimo. Aplaudite le nazioni del mondo, richiede il potere insieme, vedete già il posto in mezzo alle trenti, la sua santa migliora. Aplaudite i popoli tutti, fortanati e con gioia al Signore in tutta vera, il divente e l'artissimo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ame. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Con questa celebrazione eutalistica entriamo già nel giorno per eccellenza di Cristo Signore che è la Domenica. Già da questa sera celebriamo la sesta Domenica di Pasqua e vogliamo, e di un sacrificio, ricordare oggi particolarmente la nostra sorella Grazia Orlando Dernelli, che nei giorni scorsi in Furnali ha concluso la sua giornata a Dernelli. Ieri dì si sono celebrati i funerali. Vogliamo abbracciare i cari figli Melita, Enrico e i cari tutti di famiglia che ne piangono e ne impiangono la dipartita. E vogliamo morire questa nostra sorella nel cuore di Dio che è l'amore, la misericordia e il perdono. Anche Dibali, Vulcano, ha beneficiato nel dono della sua presenza e è stata insegnante nella nostra scuola elementare, anche nella sezione di Vulcano. Il marito Pietro Diannelli è stato per tanti anni medico condotto nell'isola di Vulcano. Il Signore accorga grazia e il marito nella braccia della sua infinita misericordia e per celebrare degnamente i santi misteri per riconosciare i nostri peccati. Signore, nostra pace, abbi pietà di noi. Cristo, nostra Pasqua, abbi pietà di noi. Signore, che Dio di potente abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. E pace interna ai uomini di buona volontà. Noi ti odiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rediamo, grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, che vede il cielo, Dio Padre onnipotente. Signore, figlio unigenico Gesù Cristo. Signore Dio, Agnello di Dio, figlio del Padre. Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo è il Santo, tu solo è il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Dio onnipotente, fa che viviamo con rinnovato impegno questi giorni di letizia in onore del Cristo risotto, per testimoniare le opere, il memoriale della Pasqua, che celebriamo nel Cristo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, confido che Dio eviverebbe con te, e l'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli avanti. Dagli Atti degli Apostoli In quei giorni, Filippo, sceso in una città della Samaria, predicava loro il Cristo. E le folle unanime prestavano attenzione alle parole di Filippo, sentendolo parlare e vedendo i segni che egli compilano. Infatti, da molti indemoniati uscivano spiriti impuri, emettendo alte grida, e molti paralitici e storpi furono guariti. E vi fu grande gioia in quella città. Trattanto, gli Apostoli a Gerusalemme seppero che la Samaria aveva porto la parola di Dio e inviarono al loro Pietro e Giovanni. Essi scesero e pregarlo per loro, perché ricevessero lo Spirito Santo. Non erano infatti ancora discesa sopra nessuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Allora imponevano loro le mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo. Parola di Dio Prendiamo grazie a Dio Acclamate Dio, voi tutti della terra. Acclamate Dio, voi tutti della terra. Cantate la gloria del Suo nome. Dategli gloria con la lode. Dite a Dio, terribili sono le Tue opere. Acclamate Dio, voi tutti della terra. A te si rossi tutta la terra. A te canti inni, canti al Tuo nome. Venite e vedete le opere di Dio. Terribile il Suo agire sui uomini. Acclamate Dio, voi tutti della terra. Egli cambiò il mare e il terra ferma. Passarono a piedi di fiumi. Per questo in Lui esultiamo di gioia. Con la Sua forza dominere eterno. Acclamate Dio, voi tutti della terra. Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio e naderò quanto per me ha dato. Sia benedetto Dio, che non ha rispinto la mia preghiera, non mi ha negato la Sua misericordia. Acclamate Dio, voi tutti della terra. Dalla prima lettera di San Pietro a posto. Carissimi, adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori. Pronti sempre a rispondere a chiunque gli domandi ragione della speranza che è in voi. Tuttavia, questo sia fatto con dolcenza e rispetto, con una retta coscienza, perché, nel momento stesso in cui si parla male di voi, rimangano svergognati quelli che malignano sulla vostra buona condotta in Cristo. Se questa è infatti la volontà di Dio, è meglio soffrire operando il bene che facendo il male, perché anche Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per i condurbi a Dio, messo a morte nel corpo, ma reso vivo nello Spirito. Parola di Dio. Grazie a Dio. Alleluia Alleluia, 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 alleluia. Se uno mi ama, non lo osserverà la mia parola, dice il Signore. E il Paide mio lo amerà e noi verremo all'unico. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli, se mi amate, osserverete i miei comandamenti, ed io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito, perché rimanga con voi per sempre. Lo Spirito della Verità che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, verrò da voi. Ancora un poco il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me ed io in voi. Che accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi mi ama sarà amato dal Padre mio. E anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Parola del Signore. Parola del Signore. Alleluia. Con questa sante Eucaristia, come poc'anzi dicevo, introducendo l'atto penitenziale, entriamo già nel giorno per eccellenza di Cristo Signore, che è la Domenica. E nel brano del Vangelo appena proclamato, che anche domani sarà oggetto della nostra riflessione, mi piace questa sera sofferbarmi su una espressione rivolta da Gesù ai Suoi discepoli. Siamo nel contesto dell'ultima cena. Non vi lascerò, orfani. Verrò da voi. Ancora un poco il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. La separazione, quando riguarda persone tra cui non vi è alcun legame, si trasforma ben presto in oblio. Quando invece avviene tra amanti, fa in modo che il legame si rafforzi e la lontananza diventi pretesto per pensarsi in modo più intenso ed essere ancora più uniti. Questo è il miracolo dell'amore. Trasformare l'assenza in unione e la lontananza in prossimità. I discepoli di Gesù hanno vissuto questo con il loro Maestro. Quando Gesù è morto, essi, in tempi anche lunghi, hanno cominciato a sentirlo più vivo e presente che mai, vivendo la sua parola e sul suo esempio. Quando la morte ha toccato Gesù, i discepoli hanno cominciato pian piano a farne esperienza come il risorto, ossia il vivente. Più amavano, più erano attenti alla sua parola. Cercando di incarnarla maggiormente, lo percepivano come presente, attivo nel quotidiano, e in una modalità infinitamente più forte e reale di quando egli era effettivamente tra di loro. Ciò che Gesù ha vissuto con i suoi è un po' ciò che avviene tra genitori e figli. Gli anni vissuti insieme sono serviti a ridestare e a far sbocciare energie profonde e insospettate nei figli, in modo che questi possano poi cominciare a vivere della loro forza e potenzialità, senza dover riferirsi continuamente ai genitori. Tutto ciò che un figlio farà e penserà sarà squisitamente proprio, ma al contempo impastato degli anni trascorsi insieme ai propri genitori. Ciò che Dio desidera da noi è che noi viviamo, tra virgolette, da soli, ossia portando a compimento tutta la nostra potenzialità, la nostra energia interiore, con tutto ciò che di più caro sta nella nostra individualità. Ogni cosa, infatti, natura nasce e si sviluppa partendo sempre dal centro, per cui dovremmo imparare a diventare adulti da ciò che di più prezioso e grande ci portiamo dentro, senza il bisogno di riferirsi continuamente a modelli, norme e comandamenti esterni. Gesù stesso è stato compagno di viaggio per i suoi per un periodo limitato di tempo, è stato un appoggio per il tempo necessario a diventare grandi, ma poi compie il distacco consapevole che dentro all'uomo è presente quel nucleo incandescente, lo Spirito Santo, che si svilupperà, porterà a compimento l'umano se solo gli si presterà attenzione e gli si permetterà di illuminare tutto l'essere. Chiediamo per l'intercezione di Santa Rita in questi giorni che ci separano dalla solennità dell'ascensione e dalla Pentecoste il dono dello Spirito Santo. Trasformi il nostro cuore come trasformò il cuore di Rita e ci renda per tutti e per sempre icone raggianti di gioia pasquale e di risurrezione. Amen. Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo suo unico Figlio nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discesi agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eleviamo al Padre le nostre preghiere, chiedendogli il dono dello Spirito Santo, perché animati dalla sua forza, possiamo essere cristiani fedeli e coerenti, pronti a rendere ragione della grande speranza che è in noi, dinanzi al mondo. Preghiamo insieme dicendo, ascoltaci o Signore, ascoltaci o Signore, perché la Chiesa sappia annunciare al mondo il Vangelo di Gesù Cristo con parole convincenti, ma soprattutto con l'amore verso tutti preghiamo. Perché il Papa, i Vescovi, siano sostenuti nel loro ministero magistrale dallo Spirito Santo e sappiano guidare il popolo di Dio sulle vie del Signore preghiamo. Perché i cristiani si amino con l'amore di Cristo, perdonandosi a vicenda e cercando sempre la comunione fraterna e l'unità dei cuori, preghiamo. Perché sappiamo riconoscere la presenza dello Spirito Santo che anima la storia e la guida secondo i piani di Dio, preghiamo. Per la nostra sorella Grazia, che nel Battesimo ha ricevuto il germe della vita eterna, perché insieme al marito Pietro il Signore la renda partecipe della Pasqua eterna del cielo con tutti i morti che particolarmente ci sono cari, preghiamo. Ascolta, oh Padre, le nostre preghiere e donaci il dono del Consolatore, lo Spirito Santo, perché in ogni situazione della vita sappiamo rendere ragione della speranza che è in noi. te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Grazie. 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 Grazie a tutti. su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua dolore Santo, Santo Santo Santo, Santo e Signore mi feglie la terra solo pieni di te Hosanna 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 nell'arco dei cieli Hosanna 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 cambiamo al Signore benedetto colui che viene colui che viene nel nome del Signore Hosanna 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 nell'arco dei cieli Hosanna 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 cambiamo al Signore Padre Padre veramente Santo fonte di ogni santità santifica questi modi con la effusione del tuo Spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore e io prendo si liberamente la sua passione prese di pane rese grazie e lo spezzolo viene ai suoi discepoli e disse prendete e mangiateli tutti questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi dopo la cena allo stesso modo prese il calcio e le grazie lo viene ai suoi discepoli e disse prendete e bevetevi tutti questo è il calcio di un mio sangue per la nuova e l'eterno alleanza versato per voi e per tutti in remissione dei calci fanno questo in memoria di me mistero della fede celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio ti offriamo padre il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale ti preghiamo in mente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo lo spirito santo ci unisca in un solo corpo ricordati padre della tua chiesa diffusa su tutta la terra e riconvocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale rendila perfetta nel lavoro e in unione con il nostro Papa Francesco e il nostro Mescovo Giovanni il suo ausiliare Cesare e tutto l'ordine e sacerdotale ricordati dei nostri che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua premenza ammettili a godere la luce del tuo volo di noi dubbiati di misericordia donaci di aver bacchia la vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio con San Giuseppe il suo sposo con gli apostoli Santa Rita la cascia e tutti i santi che in ogni tempo di cuore gradito e in Gesù Cristo tuo figlio canta e regola tua gloria per Cristo con Cristo in Cristo a te Dio Padre e ogni potenza e l'unità dello Spirito Santo ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli amm il Signore ci ha donato il suo spirito con la fiducia e la libertà dei figli possiamo dire Padre nostro e che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta a tua volontà come il cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li mettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal pane liberaci il Signore da tutti i mani concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e si pulida o di tu ma bene nella chiesa che si compie la beata e speranza e a me che il nostro Salvatore Gesù Cristo tu hai re con tua potenza e la tua potenza della tua chiesa donare unità e pace secondo la tua volontà e viviremmi nei secoli dei secoli ma la pace del Signore sia sempre con voi e con il tuo spirito Agnello di Dio che togli i peccati del mondo abbi pietà di noi Agnello di Dio che togli i peccati del mondo abbi pietà di noi Agnello di Dio che togli i peccati del mondo don a noi la pace Beati gli impicati alla cena del Signore ecco l'Agnello di Dio che togli i peccati del mondo o Signore non so neanche la necessità e la rinunenza ma di solitare con la parola di Dio non sarò salvato Gesù mio credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento ti amo solo ogni cosa e ti desidero nell'anima mia poiché ora non posso riceverti nella Santa Curione vieni almeno spiritualmente nel mio cuore come è già avvenuto io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te non permette che io mi separi mai più da te Eterno Padre per le mani della Vergine Maria per gli offriamo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo per il perdono dei nostri peccati il soffragio dei nostri diffunti delle agri santi del Pondatorio e per i bisogni della Santa Madre Chiesa I am too safe in questo Grazie a tutti. 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 Aiutaci a rimanere uniti a Gesù perché senza di Lui non possiamo far nulla e solo invocando il Suo nome possiamo essere salvati. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ti onoriamo, Santa Rita, esperta della vita familiare. Per l'esempio di virtù che ci hai lasciato come figlia, come sposa e madre, come velova e suora. Aiutaci perché ciascuno di noi valorizzi i doni ricevuti da Dio, seminando speranza e pace attraverso il compimento dei doveri quotidiani. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ti onoriamo, oh Santa della spina e della rosa, per il tuo amore umile e vero a Gesù Procifisso. Aiutaci a pentirci dei nostri peccati e ad amarlo anche noi con i fatti e nella verità. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il frutto dello Spirito è l'amore, purita lo hai vissuto, ottienilo per noi. Il frutto dello Spirito è la pace, purita l'hai vissuta, ottienila per noi. Il frutto dello Spirito è la gioia, purita l'hai vissuta, ottienila per noi. Il frutto dello Spirito è la pazienza, purita l'hai vissuta, ottienila per noi. Il frutto dello Spirito è il perdono, purita lo hai vissuto, ottienilo per noi. Il frutto dello Spirito è la prezza, Purita, l'hai vissuta Ottienila per noi Il frutto dello Spirito è la fedeltà Purita, l'hai vissuta Ottienila per noi Il frutto dello Spirito è il dominio di sé Purita, lo hai vissuto Ottienilo per noi Il frutto dello Spirito è la speranza Purita, l'hai vissuta Ottienila per noi Signore Gesù Oggi attraverso le mani di Santa Rita Noi ti presentiamo le nostre Situazioni personali E il nostro immenso desiderio di bene Per le nostre famiglie E le nostre comunità Manda su di noi, oh Cristo Gesù Lo Spirito Santo Perché i nostri atteggiamenti e le nostre parole Come quelli di Santa Rita Siano ispirati al tuo Vangelo E guidati dalla tua grazia Tu sei Dio e vivi erenti Con il Padre e lo Spirito Santo Nei secoli dei secoli Amma Sotto il peso del dolore A te, cara Santa Rita Io ricorro fiducioso di essere esaudito Libera, ti prego, il mio povero cuore Dalle angustie che lo primono E ridurla la calma al mio spirito Ricolmo di affanni Tu che fossi prescenta da Dio Per avvocata dei casi più disperati Impetrami la grazia Che ardentemente ti chiedo Se sono di ostacolo al compimento Dei miei desideri Le mie colpe O chiedimi da Dio la grazia Nel ravvedimento E nel perdono Mediante una sincera confessione Non permettere che più a lungo io sparga lacrime di amarezza O santa della spina e della rosa O santa della spina e della rosa Premia la mia grande speranza in te E dovunque farò conoscere le grandi tue misericordie Verso gli animi affritte O sposa di Gesù crocifisso Aiutami a ben vivere e a ben morire Santa Rita da Cascia Modello delle spose, delle madri di famiglie e delle religiose Io ricordo la tua intercessione Nei momenti più difficili della mia vita Tu sai come spesso la tristezza mi opprime Perché non so trovare la mia riuscita In tante situazioni dolorose O chiedimi dal Signore Le grazie di cui ho bisogno E specialmente La serena fiducia in Dio e la calma interiore Fa che io possa evitare la tua dolce mansuetudine La tua fortezza nelle prove E la tua eroica carità Fa che le mie sofferenze Possano giovare a tutti i miei cari E che tutti possiamo essere santi Per l'eternità Amo Domani domenica sono due chiacuntamenti Al mattino agli ore 10 In diretta streaming dalla Chiesa Delle Suore Francescale dell'Imamolata Concezione di Ripari La Santa Messa Sempre possiamo seguirla Sulla pagina Facebook della Parrocchia di San Giuseppe E nel pomeriggio Qui alle ore 18 Nella parrocchia di San Giuseppe Proseguiamo il nostro cammino in onore e in preparazione Alla festa di Santa Rita Chiediamo in questo giorno particolarmente a San Rita Che metta nel nostro cuore il desiderio Dal lunedì di partecipare anche fisicamente Nella nostra Chiesa alla celebrazione dell'Eucalistia Percependo nella celebrazione dei divini steli questo grande abbraccio Quello di Dio Che mai ci ha abbandonato in questo tempo di pandemia E che sempre ci conduce lungo i sentieri del bene e del bello Non dimentichiamo mai le parole di Gesù Coraggio Non temere Io ho vinto il mondo Sono sempre accanto a te Che Santa Rita impegni questa grazia dal Signore Per ciascuno di noi Diamoci allora appuntamento domani Al mattino alle 10 Dalla Chiesa delle Suole Francescane E nel pomeriggio alle 18 Qui dalla parrocchia di San Giuseppe Il Signore sia con voi Vi benedica Dio di potente Padre, Figlio e Spirito Santo Amen La gioia del Signore sia la nostra forza Andate in pace Andiamo grazie a Dio La gioia del Signore sia la nostra forza In ogni istante di questa vita A te sia sacro il nostro amore In ogni istante di questa vita A te sia sacro il nostro amore A te sia sacro il nostro amore Grazie a tutti.